La demolizione tuttavia è stata più complessa del previsto. Quasi le grandi strutture si volessero opporre alla propria distruzione. Una prima volta l'esplosione delle cariche non ha avuto effetto. È rimasto in piedi. È rimasto in piedi. Maronna! Maronna mia! Che vicette questo? Poi, dopo lunga preparazione, è caduta la ciminiera centrale. Infine, dopo tre ore e quaranta, è stata la volta delle due torri superstiti. E un'altra immagine.